ero stanco capo fancy notizia mi hanno licenziato da amazon quindi sarò un po più libero nelle prossime settimane perché sarò nel fantastico mondo della disoccupazione ma come mai giusto per natale t'hanno tenuto eh sì ma è scaduto il contratto e non me l'hanno arrivato come mai non è di bravo a lavorare io sorvoliamo su questo aspetto come sorvoliamo su questo aspetto sorvoliamo su questo aspetto che senso non è di bravo vabbè dai diciamo ci mettevo il mio il problema è che il mio diciamo che la mia abilità nel lavoro di amazon era non inversamente proporzionale al mio senso dell'orientamento su dark souls mettiamola così quindi scalavi sul senso di orientamento scalavo sul senso di orientamento a parte che lo sai che io mi sono andato a vedere un video che erano tutte le armi di dark souls 3 ranked e il lo stocco di cristallo era letteralmente una delle tipo prime cinque tra le ultime in fondo la classifica ti ho sempre detto che è una merda quell'arma ma tu non so perché il video diceva chiaramente se proprio lo volete usare per farmare mettetelo nella mano sinistra e mettetevi un'arma seria nella mano quindi usare tutti i miei materiali per portarlo al massimo è stata la cosa più stupida che io potessi fare complimenti come se non l'avessi avvertita è come se non l'avessi avvertita sarebbe stato se non avessi anche portato al massimo lo scudo ci mi ha rondolato mio dio perché 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 mi dava fastidio dobbiamo rifare questo discorso che mi dava fastidio girare con un set non completamente ottimizzato forse sì forse no ma da quant'è che c'è il posimbolo da adesso lo mesura ok mi dir mi ha anche rotto un po le palle sinceramente allora me boss draconici che non siano calamit mi stanno sul cazzo ma in realtà pure un po calamit mi sta sul cazzo perché boss draconici ovviamente c'è quel problema con la telecamera ma il fatto è che per colpa della telecamera sono completamente imprevedibili e essendo imprevedibili fanno cacare mi dir è un caso eccezionale o diciamo a calamit ed è per questo che ho smesso di giocare a elder ring perché ci sono 15 boss draco draconici e non li farò mai io poi c'è anche il problema che a me onestamente la gente non so perché tutti impazziscono per per i draghi ma a me i draghi non fanno impazzire più di tanto cioè io preferisco altri tipi di creatura oddio ecco no guarda come come hai fatto come 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 hai fatto no come hai fatto io non l'ho vista questa cosa come hai fatto sì l'ho registrata questa cosa l'ho registrata ma come è successo per allora scusami tu stavi sopra l'ascensore com'è fatto andare sotto l'ascensore ho no clippato l'ascensore come l'ho clippato l'ascensore cosa vuol dire hai no clippato l'ascensore vuol dire che ho no clippato l'ascensore va bene va bene d'accordo non siamo con il piede giustissimo eh certo proprio alla grande perfetto e ti facciamo che da adesso il simbolo te lo metto giù eh dai adesso cos'è questa ondata di sfiducia improvvisa no no io sto andando giù nel frattempo che mi stai evocando ok dovrei arrivare a breve tanto tira la leva gentilmente e poi nei miei tentativi ho scoperto che c'è anche un modo per entrare nel buco senza usare l'ascensore però è un po difficile per le persone normali grazie per avermi aspettato giusto dimenticavo grazie che dico di cui la scala adesso che ci penso ma non avrebbe molto più senso scappolo per tentativi no eh provare a scaricare monster hunter rise perché magari pesa di meno visto che gira su switch eh ma rise è una merda in confronto a world lo so sì so che world è meglio però magari c'era più probabilità oddio però se 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 gira world è tanto di guadagnato aspetta che mi devo mettere uno scudo mezzo serio eh lo scudo lo scudo e beh oh dovrei tankare le fiamme eh me 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 fai quello che ti pare e basta io mi ricordo manco come cazzo aspetta ma non è più oh fermo ma no è ma la cosa che io devo stare fermo e allora quella quella all'inizio all'inizio devi stare immobile devi stare immobile all'inizio non riesco a sopravvivere se non lo panco Alessandro allora devi fare esattamente quello che ti dico io all'inizio perché se funziona da me spero funzioni anche qui da te all'inizio appena caschi rimani fermo ok quando vedi me fare un backstep fai un backstep ok aspetti che lo colpisco una volta se riesco lo colpisco di nuovo e poi ti sposti tu rimani sempre bello con lo scudo possente in mano mi raccomando però si aspetta che sto cercando di mettermi la cosa più antifuomo scommetto che non hai sentito nulla di quello che ti ho detto perfetto no? tu hai detto che quando cadiamo io devo stare fermo subire il primo attacco e poi quando tu fai un backstep io devo fare un backstep no e poi se riesce se va a segno anche il secondo attacco allora posso cominciare a muoverli no appena scendiamo rimani fermo quando vedi che io faccio un backstep che è subito prima del primo shot forse ti devo spiegare bene come funziona il glitch no no più che altro me lo devi spiegare quando non sto scegliendo lo scudo voglio essere brutalmente sincero con te ovviamente il multitasking è una cosa troppo difficile per l'uomo è una cosa troppo difficile per Lorenzo Antonelli oddio ho pubblicato per sbaglio adesso devo ritrovare lo scudo col simbolo del drago eccolo qui lo scudo col simbolo del drago allora cambiamo gli anelli ci mettiamo l'anello della resistenza al fuoco l'anello della resistenza ai danni l'anello del pianelli me l'ho messo un'altra volta orezzo è un pezzione ok questo l'anello dell'estus l'anello dell'forenzia di 3 c'è un altro anello che mi può essere utile a sopravvivere non credo che paura capitano non capisco perché vabbè sto pronto dai sei pronto? aspetta no devo prenderò devo prendere lo scudo a due mani dai no è un si tanco è tanco vabbè ma tu mena gli esti cazzi del tank basta che lo distrai mena gli mena gli e se mi ammazza ma guarda che non c'è bisogno che lo metti sulla mano testa lo scudo per tenerlo a due mani come? ma metti lo scudo sulla mano sinistra di che è strana magia stai parlando? tieni premuto triangolo no eh magia adesso sono goner in una saga del quadri di me adesso sei goner in una saga del quadri di me adesso sei goner in una saga del quadri di me prima non lo eri e vabbè possiamo andare eccoci possiamo andare e ti fai come cazzo di fare ma se ci facessimo una una bella discussione sul fatto ma perché sei così alto? vabbè andiamo oddio no 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 perché ti sei buttato? come perché ti sono buttato? devo castare il buff ah vabbè è castato la cosa di te hai rovinato tutto adesso lenzo backstab bravissimo bravo rimani fermo ok cazzo non l'ho preso niente è fallito tutto mi ha tolto tutta la vita e rimani vivo Lorenzo rimani vivo ho più tentativi di tre botte allora bravo arreggilo nooo mi ha interrotto sei morto? no eh sì sono morto potrei essere un po' morto mi sto facendo la presa magica dove ti sputa il fuoco mentre sei un cadavere allora non è andato così male questo primo tentativo le raccomando di uscire dal dalla partita così mi ritrovo esattamente lì prego vada bravissimo eccoci allora non è andata così male il fatto è che purtroppo l'ho mancata un paio di volte però non è andata così male si può fare si può fare adesso comunque sì allora perché il glitch non te l'ho spiegato bene si tratta come ti ho già detto di uno swap di moveset ok più nel particolare dell'abilità speciale dell'arma che è quella di Gael della balestra di Gael per attivarlo però prima devo usare l'arma di Gael quindi devo prima usare la sventagliata ho rotto la giara ho rotto le candiliere spavano bravissimo vado a rimettere lì il simbolo quindi prima la uso poi cambio arma dopo che ho cambiato arma ho fatto lo swap backstep e l2 se tutto va bene e parte l'animazione con le frecce sbagliate questa cosa la potevo fare per un massimo tre volte perché spara dieci frecce ogni tentativo ok ma e qui viene la game changing della serata ma dato che comunque il massimo trasportabile dei frecce di Milwood è 30 quindi sono tre tentativi ho potenziato un altro arco grosso e adesso ci abbiamo altri cinque tentativi aggiuntivi oltre i tre oltre i tre vai buttati qui cambia tutto perché invece dei tre tentativi adesso ce ne abbiamo otto figo ok sempre se non vuoi uguale a prima uguale identico come hai fatto prima perfetto il backstep dammi il segnale vai che tanto non cambia molto perché comunque siamo separati quindi in realtà non cambia ecco benissimo io ho fatto un cazzo vabbè oh aia proprio un cazzo non direi dai che te lo sto reggendo eh si è buggato eh si è buggato tutto calcolato la piaschetta non dovevo usare la piaschetta eh non posso no bravo tienilo bravissimo quarto non ti far uccidere ah ok mi sei molto piaciuto attento bravo rimani fermo ok ho niente ok ho finito i tentativi con l'arco di Milwood non so perché li faccio molto meno male come forse in due c'è veramente così tanta vita in più ok sei pronto Renzo reggilo appena entra in fase 3 è un macello quindi sopravvivi con il modo di bravissimo Renzo stai facendo una cosa incredibile adesso bravo no non c'ho le frecce equipaggiate è troppo lontano cazzo merda non lo puoi colpire mentre fa così eh ma sono troppo lontano non c'è le frecce non lo prendono che sta facendo invado il mondo fase 3 ok è troppo lontano vabbè facciamo una cosa risetto l'abilità comunque tolgo molto molto poco non so perché oh oh Lorenzo attento attento sopravvivi a questo gli facciamo un sacco di danno la risata il panetto poi dovrebbe uscire la patosta di Arlen eccoci poi dovrebbe uscire pure quello lì non so come devo sto ancora aspettando quel sacco di danno ma proprio che cazzo no lo reso è morto noo guarda non so perché ma io faccio molto poco danno in realtà faccio molto meno di quello che pensassi mi faccio la ricaricata a mille ma adesso se vuoi puoi fare due cose poi esci dalla partita o ce provi a ammazzare e ce provo se sa mai purtroppo ho fatto un grave errore era quello di non cambiare frecce se no sarebbe morta a quest'ora dopo mi sono dimenticato però poi li spreco e non posso avere il prossimo pass si ma comunque a che passi sa c eh mille e tre mille e tre arriverai a mille e due arriverai a mille e due mi bac va Lorenzo ce la puoi fare ce la puoi fare Lorenzo ah oggi ho trovato un meme su instagram dove diceva la signora fride è entrata in fase 3 e non abbiamo fraschette non c'è nulla che possiamo fare ormai usi il potere dell'amicizia signor Lorenzo il potere dell'amicizia ecco questo va bene come potere dell'amicizia quando un giocatore usa l'elizir è arrivato il tutto per tutto pure per mi dire menale menalo prima che fa questa cosa qui però ce l'avamo quasi dai cazzo ce l'avevo creduto porca di quella traga e poi quanto era bello se il colpo finale gliel'avessi dato legge il minimo sarei bastato in più perché non voglio niente porca di voglio porca di voglio mi 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 io sto sempre giù pure la benedizione divina comunque è stato prego usare poi la benedizione divina eh sì 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 intanto non ti permettere leggi te è legittissimo pure così comunque te l'ho detto non so perché faccio poco d'anni a parte che sono abbastanza sicuro che se avessimo provato a combatterlo legge sofferenza per sofferenza l'avremmo già battuto sì però come hai visto questi due tentativi sono di meglio tutta l'ultima volta che ci abbiamo provato sì ma poi soprattutto ormai è una questione di principio di riuscire ad ammazzarlo così eh per forza ma tu lo sai adesso che appena andiamo in New Game Plus e ucciderò tutti i boss così vero eh sì ragazzi se volessi a messi io non mi oppone è levato sì ma più che altro guarda che dovrei aspettare un po' prima di poterli comprare le frecce di mille appena arrivo back step così ci sposta col piede perfetto e billet nooo maledetto bastardo hai detto bastardo che ho fatto la fiatata date fuoco che fa che non lo vedo ok fa la cosa più sbagliata che poteva fare ecco questo era un buon modo per usare il bravo lorenzo arreggilo ah il fatto che se lo prendo in testa ti tolgo veramente un botto ma vieni verso di me vieni verso di me se ce la fai ma è morto che sa cercare di prenderlo anche in testa eh lo so ma è quello che ha fatto eh che cazzo non si è spostato ho finito i tentativi col mille food ma troppo poco danno fa non so perché forse perché veramente in due c'ha tutta sta vita eh che cazzo era finita la mappa sono morto non mi era accorto guarda finita la mappa eh il fatto è che cioè calcola se lo prendo in testa tre volte lo trisciotto è quello il punto se poi esci dalla cosa eh no perché c'ho troppe poche piaschette dai vanno bene 8 piaschette ce la facciamo non vanno bene dai Lorenzo non poi faccio tutte e 15 le piaschette avrei vinto scusami ma uscire dalla partita usare il frammento di spada spirale è troppo così non usi nemmeno la brush vabbè ma le brush mi sembra che le abbiamo pari se non ce le ho più vuoi che Alessandro io l'ho capito che magari non sei completamente ottimista ma spero che nei prossimi 80 tentativi ci sia quello buono se le ho finite eh ma io ce ne ho 80 e se si buggano le due finiscono prima e adesso ho capito che sono il no clippatori di ascensori però ma quanto è bello il mio fashion source Alessandro veramente quanto è bello sembra un giudice di Final Fantasy 12 dimmi no come no sono più belli i giudici di Final Fantasy 12 ti piace mi spiace mi spiace lo devo ammettere però con Benetus di Final Fantasy 12 mi c'era avvicinato invece perché la armatura di Vestat è main si già lì si lo devo già dire però questo è troppo troppo mantello e poca armatura ma a me però piace il mantello che svolazza qua e là si si dico tutti così quando ci fiamo un megaglione aspetta te lo metto a posto tutto ma che ne è lì c'ho? ah ecco perché ma vaffaculo non c'ho l'anello del falco io non c'ho l'anello di pietra magica eeeh buttati buongiorno mi spiegherò da solo cosa ne pensi di Adriano Salentano? I want you know I want you know vorrei sapere vorrei sapere come fa la gente come fa la gente ok no la fiammata porca puttana non volare non volare e vabbè calcola che il backstep serve proprio a evitare che lui fa la fiammata perché ogni volta che stavo fermo immobile mi faceva la cazzo di fiammata e mi uccideva con la codata come è successo adesso perché non mi posso spostare perché se mi sposto io faccio un singolo passo mi resetta lo swap e devo rifare tutto il dice da capo non so perché muo ricomincia e lo so che è andata male quella lì è la combo fatale che mi ammazza per forza se fa la soffiata e la codata mi ammazza per forza ma sei sicuro che non è controproducente il fatto che il backstep ce la faccio anch'io no 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 perché praticamente appena finisce la prima combo che è quella che praticamente inizia la battaglia subito dopo può fare due cose o andare indietro oppure fare sta cazzo di fiammata con la codata che mi ammazza per forza se va dietro io mi giro non è che il mio backstep aumenta un pochino la rg della codata no no eh sì il fatto che siamo in due aumenta la codata se stavo da solo cioè comunque stavi da solo pure tu te ne accorgevi che quella non te la faceva più per questo te l'ho calibrato apposta il fatto che ti ricordi te l'avevo detto ho fatto guarda ho capito che se fai il backstep così lo prendi in testa due volte c'è una da me qui invece niente eccoci qua di nuovo e no scupa in testa duecentoconanta di nuovo eccoci i zai buttati oh bella dobbiamo provare a fare due backstep proviamo non so quanto sarà producente questa cosa ok ok funzionato quasi ok l'ho accetto non morire Alessandro non morire il fatto che mi sta aggrando non è buona come cosa io l'ho preso in testa però come hai visto ha funzionato ok ah se non aggra me per un singolo secondo sarebbe molto molto buono ok a reggito Lorenzo a reggito no si è spostato porco due no ce l'ha con me ce l'ha con me perfetto 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 adesso devo sculare Lorenzo devo sculare che non mi prende no no sbagliato perdonami Lorenzo non so per cui non puedo sono la prima cosa spagnola che mi ha avuto in testa allora appena addio mi odia tantissimo mi odia a morte aiuto adesso reggio ciao ciao sinistra cazzo lei proprio si più addio Lorenzo esca esca di lì come hai visto l'odio che ha mi dirne i miei confronti è veramente grande da superare il portatore della barrage grazie vogliamo riprovare con l'anello del teschio c'è l'anello del teschio spero sì mi ero dimenticato dell'anello del teschio eh no no già farò sicuramente no qui non venga c'ha ragione pure tu ok ok Grazie a tutti. 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 Tu hai letto le cose sulla wiki e consigliato di... Che mondo che è diventato... Provi muori, provi muori, provi muori, provi muori... Io vorrei rifare il raw clip dell'ascensore solo per il ministro di rifare una clip dell'ascensore... sensore di rifare una clip... musica che bene aspetta aspetta provamelo del teschio non lo so se ci conviene proviamo poi se serve in modo molto più semplice a fare questa cosa però non lo dire e lo dirò semplicemente dopo che hai fatto tutto questo, vai Booth, dopo che vuoi dire sarà morto però mi risponderai in una frase molto semplice, provo con il doppio backstap mi hai tipo un po' di bloccato, non ti preoccupare va tutto a posto mi ha colpito come? come mi ha colpito? mi ha colpito tipo con l'ala il fatto che ci siamo body bloccati ha cambiato le nostre posizioni ma ci vogliamo, Alessandro ma ci vogliamo provare a combatterlo legit? no no? non mi va è palloso questo bordo perchè è troppo lungo scusa una cosa, io l'avevo quasi ammazzato da solo se siamo in due in teoria dovrebbe essere un gioco da ragazzi tu ci hai lasciato l'ammazza da raghi ehm... smi si però non lo so non lo vediamo ce l'ho anch'io eh non lo vediamo se viene per la bilde a posto non mi pare e non lo so non lo so ma non lo so ma non lo so ma che devo giocare così pure con cavallo dove ne da quando mi animerà a della eldenring fermo oppa uno due Ora mi ammazza un'altra volta Ok, questo è buono Un par di palle è buono Eccolo, vedi, muova dietro, fa la fiammata Mi prende il sbaglio Eccoci qua Mi faccio così, ho sbagliato Complimenti Lorenzo, abbiamo perso Ho visto, santo, ho un HP Guarda, se ce la fai a reggelo Niente Forza di lui Perfetto Vai dietro di te, vai verso il cervello Ci sta un coso per essarmi Ma io tolgo troppo poco, non capisco perché Oh Attento che stai a fine mappa Bravo E Cristo santo Oddio Niente Una cosa Ogni volta che li pigliamo Ci danno il 0,3% in più C'è Ogni volta che appena mi resti Ci danno il 0,3% in più Guarda, quanto cazzo, si muove Si muove Da meno il 2% Bravo Quindi se mi resti Ci diamo il 0,3% ogni volta Non volare, li prego, non volare Muore, 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 muore Beh Niente, si muove troppo No, lo so Però io ci trovo Si muove troppo Se vuoi adesso ci possiamo provare Legit, ho finito le frecce Proviamoci Legit Tutto per tutto Eh Lorenzo Devo cambiare arma Se no ho perso Allontanati, scappa, scappa Parolone Vieni, vieni Lorenzo lo devi aggrare È finita Se no per me Ce l'acqua con me È fortissimo Cazzo Che pallo Non riesco a mettermi lo scudo Ok, devo trovare qualcosa per curarmi Ok Ci sono Ci sono Aspetta una ammazzatraghi Do cazzo sta Per più che funziona E saliamo di un po' No 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 Pazzo, è pazzo Pazzo, è pazzo Pimia Zaghi Che le diceva il cervello quel giorno Ti diceva Non potrà essere peggio del drago antico E comunque non l'è stato No, sono nel punto peggiore No, Lorenzo Meno a me Esatto, mi ha ucciso Allora, Lorenzo si può Usa le stanze Usa la stanza L2, R2 No, è l'armai peggiore possibile Era esattamente La lasciata L'ammazzatraghi Era molto meglio Spadone Con la stanza Lo prendi più in alto Ottima mossa Passiamo Sarebbe restare Penso che sì Se dobbiamo rebuttarti no No, c'è scritto rebutt C'è scritto rebutt Rebutt fa meno 2% Allora vuol dire Noi siamo 1,0 Perché ce l'ho buttato Praticamente Mena, Mena, Mena Avito, avito, avito No, nemmeno Vedi che toglie proprio due Toglie due del giro Mena Mena Pugliamo adesso Ok, ok, ok Ok, ok No, andiamo in secco Andiamo in secco No Buon naccio Buon naccio Buon naccio No Questa fa male all'anima No All'anima All'anima famosa Allora, aspetta, fammi fare una cosa Fammi un attimo tornare Al santuario Perché non so per quale motivo Ho quattro fiaschette del stuccinario Che non mi servono a niente Perché se ci avesse avuto le fiaschette Non sarei morto Che brusciore, che brusciore Mamma mia, che brusciore Letteralmente, perché ti ho dato letteralmente fuoco Capisco il tuo brusciore E infatti io devo farlo solo per salire là Il fatto è che ci ho messo troppo A fare il setup perché Sono troppa caga Eccoci, arrivo Ma adesso lo facciamo tutto legit? No Lo facciamo legit solo quando ho finito le frecce Come il caso di prima E poi prima Oh, l'ho preso male tutte e sette le volte Otto le volte Cazzo Alessandro, guarda C'eravamo andati vicino Eh, lo so Oh, mai più Mai più Lascia dall'ammazzata A chi controfuso Qual'è l'arma Mi ricordo manco più Che cazzo si gioca a sto gioco Che armi usavo io? In teoria se c'è la spada quella dei guardiani dell'abisso Oppure lo spadone di Artorias Gli fanno più male perché è debole Ma non ce l'ho potenziale Di quelle armi potenziali che c'ho io Fammi controllare al volo Però Quanto si stiamo i tre Tra Così dovete fare il doppio Mi si vuole un'arma veloce Eh, mi serve un'arma lunga Mi serve un'arma con un hitbox molto grande Non un'arma veloce In realtà lo spadone era un'ottima cosa Però non so perché l'ho cambiato Allora, in realtà c'ho C'ho le doppie spade di Gotthard Oppure c'ho L'onichiri L'ubadachi Affilate E' un bomba Oppure c'ho le lance Dal mercenario del fung Lo spadone di Lotro E' più benedetto C'ho un sacco di armi Ah no Dopo usa L'unica E' inimitabile Ecco cosa userò dopo Altro che tu te stai amico appena detto Ma dove hanno tu te stai amico Ho detto Eh, è pericoloso però No, però hanno rubato la scorta a destra Cazzo Lo potevo ammazzare a distanza Con la spadone della luna Ora non c'ho le statistiche Quanto c'ho, quanto vuole Quanto vuole la spadone della luna Qua 20 intelligenza Quanto vuole 26 Bastarda Maledetta Questo è il scavore proprio qua Però lo possiamo fare qua Con quel caso ti posso dire Che ci mancava poco Penso che un'occasione Penso che un'occasione così Non ritorna mai più E' contento? Guardi, si La conforto un pochino Pensi che Tutti i boss di Monster Hunter Sono tutti Tantissimi piccoli midir Non ci vediamo Tu, Alessandro Non credere di potermi dire niente Di Monster Hunter Perché io ho giocato Al Monster Hunter veri A quelli Sì, va bene Va bene Sei il più figo Sei il più figo di tutti Poi però Quando arriviamo al Fatalis Te lo fai da solo Va bene Allora io ti dico una cosa Alessandro Emula Tanto si Lo puoi emulare Perché è PST No, non lo voglio giocare Non lo voglio giocare Voglio vedere quanto duri Tu soffri da un mio night Non lo voglio giocare No, non lo voglio giocare Però il Fatalis molto Lo fai da solo Che sei quello figo Che ha giocato a quella Io ho fatto il Fatalis Da un mio night Da solo Non il Fatalis Coglioncello tuo Io ho fatto il Fatalis Ah, coglioncello Va bene Va bene Va bene Quando lo faccio Io voglio te lo farò da solo Dai Mi evochi gentilmente Invece di guardarmi Se no ti fai pure I midir da solo Tu sai che cos'è Il Tigrex, Alessandro Il Tigrex di Freedom United Io ho combattuto Il Tigrex di Di Rise È una merda Cioè Il Tigrex di Rise È letteralmente È un Un cucciolo di foco È un But Tu non sai che cos'è Il Tigrex di Freedom United È il Tigrex di Freedom United Aspetta Bravissimo Morirò per questa cosa Già lo so Eh ti pareva che non mi colpiva Niente 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 Mi colpisce Col dietro dell'ala E muoio Che palle Mi colpisce Non so con quale Hitbox E poi mi dà la godata Devo voglio Ma lo facciamo ancora Tu non sai che cos'è Il Playzio Di Freedom United Va bene Ho detto D'accordo Va bene No tu non sai Le hitbox Del Playzio Di Freedom United Insomma Sto giocando Sto giocando a Final Fantasy 6 Prendo un danno da niente Quello è il Playzio Da qualche parte Da qualche parte C'è un Playzio Di Freedom United Brava mi è uccido? Da qualche parte Un solo backstep Ok Cazzo Adesso mi servirebbe Una gemmina Di Dark Souls 2 Bravo Lorenzo Bravo Bravissimo A reggilo Avessi colpito Una volta Oh E prendi La colorezza Mamma mia Sarà sempre con me Allora noi andiamo Ma che ho fatto Io Oh Bello Moda la può pure Prende con me Girati No ho sbagliato Che meno male Che ho sbagliato Perché sennò Sennò sarei morto Non prendermi Non volare Non volare Sì 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 Ma abbiamo tutti i due di col medaglione attorno Lo sai Ok Adesso ho ancora un colpo in canna Credo C'erano due C'erano due Allora Lorenzo se sopravvivo arrivo da lui abbiamo quasi vinto Fermo 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 E' troppo lontano E' troppo lontano Adesso vieni verso di me Vieni verso di me Torna indietro Eccolo Eccolo Ok finito le frecce Dai legge Sto arrivando Che pezzi di merda Che pezzi di merda Tanto come ti dormi Adietro Fammi mettere un'armaturina Sozza No Ma erano i tre Cazzo sta la mia armatura Sozza Io tanto con tutta calma sto scegliendo l'armatura Da va bene così dai Senza pantaloni Senza pantaloni Che funziona quella cosa Arrivo Lorenzo No me la stavo mettendo per proteggermi Cazzo Ahia E' il target Ti meriti solo un'arma Pezzo di merda Sa quanto corre Infatti là Ne avevo già visto Poi hai visto quelli là Che ci avevamo davanti Ma hai visto quelli che ci avevamo davanti E dicevi che guardavano verso di noi E' morto Eccoci Ora adesso siamo gone Nella saga delle forbichi Basta Basta Addio mi dire Mi sono rotto il cazzo Basta C Hazzo fatto non ci posso credere che ce l'abbiamo fatto il maledetto bastardo è morto recuperato la mia zero anni allora andiamo alla fine vivo e facciamo sta cosa io non so se prendere la strigoleria e poi duplicare la tua lanceri della chiesa scusa che ho trovato e guarda l'oggetto chiave che non è un oggetto del pato no no è quello che ti fa fare le spine hanno ecco sì lanciari della chiesa riusciti al papo dei lanciari alessandro guarda cosa sta per succede io appena le faccio uno guai per lo dico a un amico sta per prendere la spada che si fa no no si no io lo lascio bianco poi diventa conosco dall'improvviso sto per prendere la spada sto per giocare a devil come tutti i giocatori ancora non riesco a trovare l'unica che cosa è possibile che quello ecco l'ama invece prende un miracolo non è vero non è neanche un miracolo ma sia la magia scusa l'ama consumato però non penso di usarla subito invece ho usato subito bello proprio come parla di te stessi guarda che già c'ho la 40 di strizia ma che stai a fa? e mi sto rimettendo gli anelli a posto e chi lo dice io non so più come si gioca questo gioco guarda che bellezza che quanto vuole ce l'ho io di così e ghi guarda cosa sto per fare guarda che sono più attacchi no sono reso l1 e l2 e questo è quello di no quindi tu non hai mai fatto gli altri attacchi con le altre spade sorvoliamo questa cosa beh d'accordo oh finalmente potrò tornare vado a fare il mio respec che tanto mi potenziarla che tanto mi meglio io scelgo i materiali pronti sarò mai invece ce l'ho anche io sono stato il primo giocatore a rianimare qualcuno ecco qui distribuisci caratteristiche ce l'abbiamo fatto adesso in un tempo record Alessandro dimmi una cosa contro chi? contro qual? a parte che devo livellare ce la puoi fare contro? aspetta aspetta fammi livellare allora va bene sempre tempo guarda c'è rigore dicevo contro quale nemico la prova dimmelo tu che ne so io voglio provare contro i cavallari stronzi di Osiris Alessandro ma ci pensi che abbiamo sconfitto di dir per forza adesso io dobbiamo fare una copia di questo salvataggio te lo devo mandare tu lo devi mandare ad altre dieci persone che conosci così se esplodono i computer di nove di noi almeno uno di questi computer sopravvive nooo sono la lingua pallida ok c'è un'altra meno male e non voglio più rifare questa cosa per il resto della mia vita e no ma dobbiamo farlo in New Game Plus beh immagina muori vabbè è un momento molto e poi tu hai detto che in New Game Plus è più facile no non è vero come no? la cosa non è vera è una merda complimenti ma è una merda sto zitto come no? è certo che non ho visto che il grandanno che fa non so che i guanti di quel bastardo eccoli i guanti di Lorian Gian Carlos che bello che è tornato a casa è tornato a casa il mio Gian Carlos che bello che sono contento devo dire a mia madre che assomiglia a mia madre no non gli devi dire così gli devi dire ti che lo sai da assomiglia a mia madre Blackburn no questa lo devo fare per forza dai guarda che forza quando vengono a Roma c'è ma ti ho fatto pure il frammento a lui per l'ammirazione e starete chiedendo perché vi ho portato qui penso adesso sono un tutt'uno con la vita con il vivere con la morte con la discrizione l'ho fatto realmente l'incubo è finito l'incubo del cacciatore è terminato chiede una persona per strada che anno è quando ti risponde ce l'ho fatto ho viaggiato nel tempo da provare no questo non l'ho I've done it allora in realtà non c'è rimasto tanto da fare e io sto pensando la stessa cosa cioè adesso che cazzo facciamo però io ovvio adesso arriva adesso arriva il momento peggiore di tutti i giochi Souls cioè il momento in cui sai che devi andare in New Game Plus ma il terrore di andare in New Game Plus è di essere dimenticato qualcosa la quale cosa la quale cosa ti ricordi puntualmente nel momento esatto in cui sei andato in New Game Plus tipo io con Dalsun sicuro ti ricordi che mi ero scordato che potevo far male certo che ti risparmi al piccolo del drago bravo esattamente quel momento lì allora pensiamoci a che cosa ci manca da prendere io ho preso tutto in realtà a parte gli anelli i frammenti di Estus e le schegge si sommano in New Game Plus no no una volta che c'è 15 piaschette più 10 che fate no io dico siccome io devo arrivare ancora al numero massimo di delle ossa lì il coso si se le riprendi le puoi usare no no ma ti conviene in New Game Plus e prenderli direttamente faccio prima piuttosto che no sulla wiki a cerca quelle che mi mancano si si voglia ok armi roba interessante oggetti che può essere interessante guarda in realtà facendo i dlc abbiamo perso pure lo ha fatto di prendere gli anelli più cioè per me era meglio fare dlc dopo New Game Plus più tutti dicono oh ma ascoltami quante cazzo di volte muore perché almeno c'avevamo gli anelli più 2 più 1 era più figo e invece no mo si siamo cagati in testa allora ragione abbiamo armi scusa e ripaggimenti sono stati cinesi ad abbandonare le battite tradizionali e salvare gli alberi cinesi hanno costruito al greco no ma una minuta in plus aspetta sei sicuro? aspetta ti sto dicendo aspetta un attimo ok 69 e 30 ok 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 per i film aspetta no stai del vinco ma stavo non si può essere innamorati di una squadra in un videogioco sì ma non di quello fa cagare quello torna a scuola e ti metti l'ipoli in te il culo sexy per questo non è vero per niente è bellissima guarda sì 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 tu sei in video solo perché tu stai ancora giocando a Dark Souls 3 o sto giocando a Dark Souls 5 ah certo che stai facendo? stai controllando se ci sono cose da prendere? se tu slecaleando e la nobacchita bambule in realtà ho preso tutto tu vedi se viene tutto così cazzo no no devo fare una cosa prima voglio andare a prendere un patto e ci sono quando deve andare a scuola? tu non imparare cazzo però che faccio? intanto vado in me che in pass ma vai qua sotto fai quello che ti pare poi se vado in me che in pass poi non mi aspetti per fare i boss mentre invece vado in me che in me che in me che vado a fare tutti i boss insieme così me lo lasciamo e siamo tutti contenti dove? no vabbè io stavolta vorrei avere un approccio più esplorativo ma va fa culo tu l'approccio più esplorativo ma sanno dove siamo? no vabbè dai adesso il giorno mi è preso ma non c'ha senso farlo adesso ma che dici? lo devi fare il new game dovevi farlo ma non adesso ma non funziona così Lorenzo invece funziona così sì perché adesso sono OP e non ho la preoccupazione di scontingere i genitori non funziona così non funziona così non funziona così non è mai funzionato così sì ma che dici e allora adesso non ho più il diritto di farmi una run tranquilla cioè Darson Stray perché non l'ho fatto la prima volta cioè quindi tu il primo il gioco lo rasci e poi dopo lo esplori ma che cazzo di problemi? ma che sto sentendo? perché in realtà in realtà abbastanza sì perché a me piace che mi faccio tutto il gioco mi faccio il mio setup e poi con il mio setup vado più piano ma forse io e Valerio non siamo così diversi come gli piacerebbe pensare ma guarda che Valerio invece esplora subito al contrario tuo già cioè prima di esplora prende gli oggetti non dirmi questa cosa non dirmi che sono peggio di Valerio contatto eh sì sì questa cosa sì complimenti ma la Valerio non c'era stasera? no Valerio non c'è più ti chiedi no non glielo chiedo non ci voglio neanche parlare come lei dai magari c'era ci divertivamo ma non voglio parlare ma lo sai che vuole vuoi che ti presento pure l'amico mio di Amazon che gioca pure lui a Dark Souls così facciamo pure le parole no perché l'altra volta perché l'altra volta hai detto una cosa che mi ha assorbito e quindi non mi ricordo cosa però non mi era piaciuta cosa? ah ti informo che ha acquittato la cicciolina Ranna per il momento ma solo perché non ma non perché ha acquittato la cicciolina Ranna ma perché non sta giocando in queste settimane ma mi ha promesso che l'hai mi ha promesso che se faccio una chiamata di scolto con lui e lo incoraggio la fa ma si? quindi possiamo incoraggiarlo a entrare non c'è neanche ancora andato a prendere l'anello di Artorius ma io l'aspetto qua sono sicuro che ti starebbe simpatico è un aspirante regista intanto non si deve permettere di parlare con me ma qua abbiamo pure la ciampa gli aspiranti regista sono tutti i miei nemici ma come? ma tu sei il più geniale videomaker della storia del mondo? ma appunto questa cosa potreste fare assieme? no 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 lui ha una videocamera e che vuol dire? io pure ho il telefono lui ha pure girato un corto che è stato presentato in alcune mostre sì non vuol dire nulla Lorenzo essere registi non vuol dire essere bravi per farci a posto io voglio prendere questo patto l'ho preso cioè mi sto parlando stupido sei pronto Lorenzo? no 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 c'ho la crisi la crisi da nuca in plassa che stanno non puoi chiedermi se sono pronto io sono pronto se mi dici che devo essere pronto lo devo fare voglio che tu mi costringsi a farlo io sono andato in jugend plus va bene dai anzi aspetta fammi prima vedere una cosa al volo che se non ho questa cosa non ci vado in jugend plus non ho sbagliato per stavula 2 ho sbagliato chiedo perdono devo controllare se ho questi così qui un po se non iniziamo dalle alle stregone vie sì sì perché io io le voglio le cose perché le uso contro due io ti prometto che le uso anche io le cose ma non è che voglio tenermi solo quest'arma voglio portare sull'ascia dell'ammazzadraghi la prossima è l'ascia dell'ammazzadraghi anche questa non ce l'ho perché ho usato l'anima del cristallo dei saggios quindi non ce l'ho no no non c'ho il dragon breath come non c'ho il dragon breath non è possibile che cazzo ho preso perché non c'ho il spiro del drago stronzo lo sai se l'abbiamo ucciso c'ho la cosa spirale perché non ce l'ho scusa che cazzo si può prendere quello sei ross però c'è spugno io c'è spugno io c'è spugno ah ho spado nella luna ho preso brah mi sa che è meglio che basta così io adesso sol storm se ci riesci un'ultima volta sol great sword attacca con una spada formata por almas si che ce l'ho certo che ce l'ho tu adesso ce l'hai attacca con una spada formata por almas mi sembra di no attacca con una spada si l'hai presa l'hai presa te l'ho fatta comprare non ce l'hai perché ma come no da orbeck non l'hai presa che schifo ma tutte e due ce ne hanno due ma tanto orbeck lo ritroviamo vabbè ma si cazzi queste cose le posso prendere in new game plus 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 è ora di giocare è ora di non farsi troppe remore ma questa non lo può fare il perry figo però giusto boh perché c'ha io nel dubbio mi prendo la piromancia la stregoneria lì l'ho fatto l'ho fatto tanto è brutta me la droppi te la dubbio forse sei pronto lorenzo siedi dal falò siedi dal falò ok vai sopra avvia viaggio numero 2 premi ex vai su si e 3 3 2 1 vai siamo in new game plus tipo al filmatino non mi va di rivederlo no mi va di rivederlo sono armatura figa ma non ci sei tu secondo filmato si no veramente che il primo perché il primo lo scrivi eh no il primo primo quello con i quattro lord eh quello non lo vedi ah no quello si vabbè si vabbè guarda che bello guarda che bello non sei bello sei brutto non possiamo evocarci mi sa da gundire lo sai ecco qua adesso andiamo un altro metro adesso andiamo in un po' con calma andiamo proprio con calma ma chi ti si ma io rascio ciao e tu lascia io vado con calma allora prima di tutto con calma adesso provavo con calma dobbiamo cadere un paio di volte e curacce e abbiamo sempre 9 di danno tipo 3 volte adesso quello che dovevo fare prima bravo hai capito la cosa dobbiamo andare appia tutto lo scudo in una delle macchine che dà lo scudo e poi prendiamo le bombe quelle che levano lo scudo e ce le tiriamo addosso e piano piano ci leviamo lo scudo e ci ripuriamo e poi tu mi hai detto che è anche una stronzata il mio che ne passi da sostre quindi adesso saremo qui per tutto il resto del gioco fondamentalmente vero? eh questo si è come se fai kill allora perché non godersela dico io alessandra eh ti conta come una cosa perché non godersela in una maniera più biglianca possibile è morto a Gundi aspetta però sei proprio sicuro che non ci possiamo evocare da Gundi si non puoi mettere il simbolo sono a metà e poi facciamo tutte e due le cose ma vai 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 due esplorare vediamo quanti boss riesco a fare mentre due esplorare prima zona dai alessandra i boss li dobbiamo fare insieme adesso è inutile farle questa cosa mi sto occupando l'ambientazione l'art direction ah bravo fai una cosa impara di dove devi andare così magari non ti devo dare altre spiegazioni in video plus io non lo farei se fosse possibile se comunque è un problema buonasera allora board della valle boreale dai adesso adesso siamo fighi e facciamo la danzatrice subito no perché ci sto già andando stadiarne gli 800 corvo quello là 1500 ah sa ma non puoi farmi questo però non mi puoi restringere a lasciare il tempo io devo andare a darmi un certo no no ah c'è il posto adesso sto correndo sto correndo io sto da volta già non fare volta io mi offendo se fai volta anche se anche se io ho fatto tre boss da solo senza dirti niente penso sto andando da loro stavamo sospetti in aria sopra l'acqua quanto è due pesi e due misure il nostro rapporto lo sa quanto faccia schifo bravo hai detto bene fai schifo ti ho anche regalato un posteraggio Valerio non te lo direbbe questa cosa qui io non lo riconosco eh ma il problema è che continua a farlo ma pure Valerio continua a farlo e non lo riconosce però cioè tu stai ancora lì mi prometti che non ti ha a fare una cosa no allora non te la posso dire non trovo la lucetta non trovo la lucetta non trovo la lucetta non penso che ho sono andato da morte dammene quelle che lavano lo scudo non fare buono no ma in vaso pomf pomf chimoci what is it chissà fommì cosa ho detto cosa ho detto merito le piantagioni se funziona lo sai che ci prendiamo un botto di cose ma Alessandra non trovo la lucetta un po' in 2% Alessandra non trovo la lucetta non sono problemi miei ok l'ho trovata urini adesso Alessandra sta per fare volta non lo fare Alessandra hai tempo fino a no io vado a venire là hai tempo fino a 0 secondi per venire da volta bravo bravo me li piglio dopo tu rimani là perché tanto piglio queste cose e ritorno sì però non spiegare c'è sto usando anche la spada con il minimo indispensabile di destrezza oh l'ho trovata neanche la specca si è fatto 0 allora vordo della valle boreale adesso sei lento non hai fatto nemmeno gumi ho capito io ti ho detto che voglio fare una cosa più tranquilla adesso va bene non ti lamentare che voglio non ti voglio aspettare ti ho aspettato tutto il new game basta non c'è niente da fare adesso guarda che bella la definizione di questa tomba Alessandro guarda la direzione artistica di questi allora la danzatrice della valle boreale no no ma tu tranquillo tranquillo poi ti aiuto io ti vengo aiutare io a fare i boss intanto finisco il gioco mano in basso che p***o vai invadimi ok 80 non lo so proviamo in due fra porco ho due danno clamoroso ho 0 hp vatti a capire 2 2 ah perché se la lancio io me lo posso togliere solo a me perché io se no c'abbia ecco vorto della valle boreale però ma tanto è solo danno quindi non c'è da nessuno del gioco ma c'erai un'arma in più da darmi una sola non so se aspettarti effettivamente oppure no penso di no però ma è è esplorato è esplorato è esplorato bene la zona di prima sì quindi ora esplorerei anche questa di zona certamente allora lancia del sole a posto vabbè tutto oh è sempre bella l'osso di volta però poi non ci possiamo più farlo che è un'altra cosa per ricaricare un altro punto per ricaricare dove ci sta la macchina il benzinaio ah sì è vero sì è vero noi dobbiamo per tutti e quattro gli studi cioè Alessandro riesci a immaginare la combinazione di Lorenzo Antonelli che esplora che esplora attentamente unito al suo stesso senso dell'orientamento appunto quello che mi fa strada cioè se io riesco a perdermi quando lascio pensa a quando esploro oh no io il boss lo faccio non fare adesso ci occupiamo lì all'insediamento delle morti ci divertiamo no non mi metto a rifare tutta la zona Lorenzo l'abbiamo fatto il new game basta il new game plus tutta la zona un'altra volta non ci penso neanche questo è il mio modo di vivere il new game plus allora goditelo però da solo vabbè viene specificatamente è questo che vado il new game plus divertiti odio odio mi uccide god perfetto e là ci siamo allora proviamo ad andare qua forse lo troviamo no questo strunzo ch�'è pomm 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 pomp pomm o com' . bomm No, 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 non me ne fredda. Ma saliamo in quest'altra, no? Dio, Dio. No, ah, ok, cioè mi hanno rubato la taglia, mi sono fermato tutto. Ahia, sai d'anno che fa? Non meditavano veloce. Ahia. Era più bello quando non meditavano veloce, supporto. Ok. Ok, tutto, però. Ok, ma gli manca un colpicino. Addio, volte. Io nel frattempo mi sono perso l'ingresso del santuario. Sono molto contento per te. Tutto morto e morto. Io quando sono sconfitto morto tu sarai l'anima dei tizzoni. Sì, sì, è proprio dove sarò. Anzi, probabilmente quando io avrò trovato l'ingresso del santuario tu sarai l'anima dei tizzoni. Che magari tu pensi che io lo sto facendo per trollarti, ma non è vero, perché non lo trovo proprio. New Game Plus. C'è nella mia testa dovrebbe essere qui, invece non c'è. Perché non c'è? Dov'è? Quale fa? Le tu ti fa? C'è di sbagliato in me. A parte le tante cose che già so. Interessante. Ok, ecco. Poi in realtà se vorresti giocare il mio Game Plus e Gumi, dico io, dovrei mettere due spell. Anzi, me lo faccio. Alla vecchia maniera, che bello. Mi manca un po'. Ero a rischio bucciatura, non me ne fregavo un cazzo, dovevo platinare Dark Souls 3. Sì, ma che c'è solo un minuto. Che momento. No, pure danni subiti. Ah, cioè hai rischiato l'abbosciatura per platinare Dark Souls 3. Esatto Lorenzo, esatto. You have your priorities straight. Sì, sì, non, facciamo così, ovviamente. Si commette che era il secondo superiore? Terzo superiore. Terzo superiore. Poi che ogni tanto succedeva qualcosa anche negli altri superiore. Molto raramente però. Allora. Prossimo obiettivo. Gran Bosco. Allora, Alessandro però, adesso senti una cosa. Una cosa seria che devi aiutare a fare nel Game Plus. Mi aiuti a fare qualche quest dei personaggi, perché le ho perse tutte per lasciare. Ah, sì. Che voglio qui vorrei dire. Eh, io non so di che stai parlando però. Intanto mi sa che pare. Troppo c'è questa cosa che non mi ricordo le quest. Che d'avesso. Cioè nel senso che queste di Dark Souls 3 non mi ricordo mai come sbaglio. Sì, però adesso c'è una di interno. Vabbè, lui è finito. Ammazza quanto dura poco. Ma chi altro devo andare qui al santuario a parte lui? All'inizio nessuno, no? Ma chi? Ma che è il santuario? Non lo so, le queste, le queste non me le ricordo per davvero. No, non me le ricordo le queste. Ho perso 2. Ho appena scoperto che terenzi pesce che peschiamo ci dà l'1%. poi allora ogni volta che apriamo un coso aspetta ogni volta che abbiamo il coso come si chiama il volto ma ci manca pure invasorio hai capito no come si chiama quello che dopo che uccidi un boss e pure odry come va tutti 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 5 per cento ognuno davvero prima siamo saliti dal 2 per cento e poi c'è in realtà siamo saliti del 7 per cento abbiamo aperto il coso ma quello con le carte dobbiamo allora scommetto che non posso evocare adesso vero perché tu hai già ucciso il boss no il boss face no tu non puoi evocare meno allora non aspetto che appare il segno no siamo saliti il 7 appa perché tu volevo rimettere cioè tu volevi che io mettessi il segno a inizio della mappa certo si così ci facevamo compagnia mentre facevo completismo ah certo certo e allora ci sono da gran bosco eh mi dispiace penso che faremo due play pro separati eh mi dispiace per Giancarlo se io che savo che la nostra amicizia avesse un valore bene maggiore e invece si scoprono proprio qui le persone come so no non so nemmeno se c'è eh ma qui c'è un'altra scala che da giù come chi se ricordava se ricordava dai maestro chi lo sapeva uno dei miei messaggi è stato valutato grazie mille il gioco no quello lì fegto quello lì che hai piccolato lì io c'erò verde c'è un assaggio verde e una mitraietta bianca però non c'abbiamo una macchina vabbè ce la fai avvenita bellissima aia le pustole bravo ma mi sa che sta solo il tuo al boss no no non lo so qua aia guarda davanti a me no guarda davanti a me proprio ma non c'è un boss ma lo so guarda dove sono si prova dito e poi buona dark souls funny però fa sempre ridere lo so a me fa sempre ridere da quale non si fa ridere lissimo per perdere riesce quello dei danni ma se rifacciamo il click se facciamo il click quello che oriamo e ci direziamo eppure il pozzo facciamo eppure peschiamo aspetta mi facciamo tutti e tre insieme sai quanto saliamo ho tipo dieci pesci dieci pesci dieci per cento guarda un lato salato d'italia colossale un grande classico vabbè non penso che sto avendo difficoltà con gran bosco ma tu la cosa la vedi come la vedo io ma non ho niente se non è in vicino ma tu ti ho avuto difficoltà con gran bosco anche l'altra volta ma se ci spieghiamo passa verso testa c'erano morti almeno una volta mi sembra ma perché sparano sti cazzo dominano all'infinito mi tolgono un botto ma come era intitolata la live di stasera a proposito sto registrando ah giusto ho dimenticato guarda che la realtà dunque la guarda guarda vabbè frappolo pinghiamoci dov'è ok me lo ricordo io adesso facciamo quella cosa che caschi andiamo a prestare facciamo la cosa quella che ti puoi andare e muori tutto più deve colpire io io cioè c'è una pustola una pustola una pustola che non riesco a prendere ecco perché sto avendo tutte queste difficoltà ok Now vieni andiamo pronta a salirmahce dal mio via sali e se no entra il boss Gran aborto Ok Ok E pure il gran bosco Conocemo il giocato No cazzo il patto Mi sono scordato Vaffaculo Che patto Eh che patto E qui è in plus plus Ecco che patto Sì là possiamo Che scambotto Che Vaffaculo Sì che c'è C'è No qua a destra Verso il pesce Tipo là Ma perché non c'è l'isola di Febo Ma è vero Però il pesce là c'è ancora La dietro la montagna dove ho pigato Per forza Il pesce non è di Natale Come su Perché son fa troll Perché son fa troll Oh qua un bel mono Come si prende questo oggetto Saltando un più in alto E cos'è il del ring Bravo Proprio lui No sono il pesce Di Elden Ring Che palle l'arma trovo Sì mi so Cazzo 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 Corri 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 Ma come hai fatto a vedermi che non esisto Arme 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 Come io sapessi è possibile Morne Fesce Morne Due Siamo a tre allora Ah tu non mi hai trovato Sì Allora siamo a tre io la trova di due Quattro però Cinque Molti di morne Quattro 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 Sette Quattro 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 Ti consigliamo Allora Direzione Cristalli Di saggio Otto Certo ma quel drago lo posso uccidere adesso se vuoi si vuole se vuoi è proprio in chi? beh siamo... ci sono e poi ci siamo a nuovo ma questo secondo io non durano niente daiiii come senti? no? come senti? mi senti? si ti sento? io si io è un po 10 stiamo a 10 ti 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 i i bellini di marzo ti versano di nuovi colori ti 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 io poi ti dico se funziona appena equitato mi ha fatto rischio grazie cazzo sto fatta perdere qui per adesso stiamo a 12 13 se funziona davvero lo facciamo tutte le partite si se funziona davvero diamo spero che funziona davvero 14 no qui mi voglio no va bene se funziona davvero 14% darksul 3 ora qui sta immagini riesco ad arrivare ad arrivare top 2 faccio top 2 e ogni pesce da veramente ma lo sai che forse c'è un problema forse intendeva ogni pesce nuovo trovato se se fai un nuovo account se è decimo è decimo è decimo a mio senso come sto cazzo è talismani io sono stato in modo spirito scuro tipo che li devi ancora sbloccavo essere secondo te alessandro sarà in grado di vincere un pvp adesso certo a palisola cipro alessandro che dici ci vediamo un episodio di ser luminos ha ricerato quel momento perché no tu non stai giocando con me ok almeno facciamo qualcosa insieme dove posso trovare questa cosa su youtube aspetta un attimo devo farmi uccidere un grande saluto a tutti quanti l'armatura di l'app siamo amici siamo amici di gusti delle armature a meno lui li utilizza delle armi alla che invece di combattere scappa fuggire il panico mi mette negli anghi ma come fa uccidere il nemico è quello il tuo obiettivo è un po umbile per uno che usa l'armatura di pace è strano stai perdendo contro un non morto stai perdendo contro un non morto e uno stronzo guarda dire il nemico l'attacca questa è facciamissima benissimo si la fida un attacco figo e questa è la conclusione dell'anime di antonelli 2 no no ha fatto il point down pezzo di anima pezzo di merda questa è la grande conclusione il grande riassunto di quella che è stata questa run con Lorenzo Antonelli grazie a tutti per averci seguito e grazie a tutti per aver seguito queste due fantastiche serie che concludiamo con il point down di se stesso che dice che ha giocato male grazie a tutti il point down pezzo di merda